La scuola sulla sanità effettuata dai vari governi ha colpito anche la Calabria. Nel 2010 sono stati chiusi 18 ospedali nella regione. Il 22 novembre del 2020, Sassà Albanese, di fronte alle proteste che in tutta la Calabria sorgevano per l'inefficienza degli ospedali, decidi di convogare un presidio davanti all'ospedale di Siderno, un'iniziativa che raccoglie col tempo vari cittadini e finisce a maggio del 2021. In questi mesi e ancora adesso stiamo continuando ad aspettare che venga ristrutturato l'ospedale di Siderno e venga trasformato in casa della salute. Siamo al momento al progetto esecutivo. In questi tre anni sono sorti tanti comitati in tutta la regione che vogliono che la salute dei cittadini venga salvaguardata e non vengono chiuse le strutture presenti nei diversi territori. E due sono gli argomenti più fondamentali. Il primo è un presidio ad oltranza. Si inizia da oggi fino a che non si hanno risposte qui ogni mattina dalle nove e mezza alle dodici e mezza. Seconda cosa è la piattaforma. C'è un gazebo dove potete firmare una piattaforma che è stata predisposta dai sindaci da proporre a chiunque volesse venire qui, da Scura a Oliverio, ai ministri e a chiunque altro. E da Oliverio, da Oliverio! Se ci fate iniziare, iniziamo. Allora, io chiamo sul palco subito per i saluti Giovanni Calabrese, il sindaco di Locri, il bescovo Monsignor Oliva, i presidenti dei sindaci, Franco Canti e Rosario Rocca. Inoltre stiamo aspettando, perché pensiamo sia giusto dare una parola solo a uno studente che rappresenta un po' la voce di tutti gli altri studenti. Essenzialmente non abbiamo avuto riscontro da nessuno di chiedere la partecipazione dei cittadini per organizzarci tra di noi, perché essenzialmente il diritto viene negato a noi cittadini, quindi è il caso che prendiamo le redini della situazione. Uno dei drammi che noi dobbiamo affrontare nel prossimo futuro è proprio quello sanitario, noi abbiamo 1.760.000 euro a Silerno, quando avevamo altre 6 case della salute finanziate con somme che vanno tra gli 8 e 9 milioni, 7 milioni e mezzo di euro, fermino spesi. Abbiamo 150 milioni per l'ospedale del padre, e siamo a 10 anni di distanza che non è stato messo il mattone. Tutto questo induce a credere che se non cambiamo la guida di questa regione, se non andiamo a guidare la regione Calabria, che pure persone che sentono il bisogno di affrontarli i problemi, non lasciarli nei cassetti a dormire, noi non ne asciamo. Noi abbiamo bisogno di costruire una Calabria diversa da quella che ci raccontano all'esterno. la Calabria è messa in drachida, è anche in drachida, e anche interessi criminali, interessi massonici, ma è anche una Calabria di gente per bene che lavora, come Antonio che si spacca la schiena da una vita, e come lui e tanti altri, e che poi se hanno un problema non hanno dove andare a pensare. perché qua in Calabria chi non ha i soldi e cade ammalato deve andare o al nord e vendersi la casa, vendersi l'oro, vendersi quei pochi beni che ha, oppure tenersi il male e morire piano piano, svenso, e per l'anonimato. E mentre noi poi abbiamo queste grandi strutture, fai vedere questa bella struttura gigante e potrebbe dare oltre risposte a tutti i sogni che purtroppo non li dà. E abbiamo chi ha la competenza oggi di gestire questa cosa che è sordo e muto, perché abbiamo i prefetti dell'Aspi di Reggio Calabria che prendono quasi 100.000 euro l'anno, ma che sono completamente assenti e silenti. E questo è inaccettabile. Comunque, continuiamo. Noi siamo qua per dire a tutti e a tutto il mondo che questa battaglia andrà fino in fondo, fino a che non raggiungiamo dei risultati concreti. Domani chi ci ascolta ci potrà anche vedere nella prima puntata di Presa Diretta che illuminerà i disastri della sanità lombarda, perché anche là hanno puntato da anni per interessi privati ad un'idea di ospedalizzazione con l'idea dell'ospedale come centro delle risposte che ha dimostrato durante la pandemia che quell'idea è fallita perché hanno ristrutturato e completamente cancellato la sanità di territorio. E illustreranno domani a presa diretta anche i disastri calabresi di queste strutture che sono 18 che sono in queste condizioni come questa di Siderno che noi vogliamo vedersi riaprire, erogare servizi, gente a lavorare ed economia per il territorio. Perché una struttura di queste che funziona significa una ricaduta economica molto importante su un territorio che già soffre di suo. Quando hanno chiuso l'ospedale e chi l'ha chiuso se ne deve ben ricordare per chi ha delle responsabilità piuttosto pesanti, l'impegno era quello di mantenere aperto il pronto soccorso di Siderno perché poteva essere utile ed era strumentale alla costruenda Casa della Salute. Invece dopo che cosa hanno fatto? Oltre ad aver chiuso l'ospedale, in un secondo momento hanno chiuso anche il pronto soccorso. E oggi in un momento di gravissima emergenza sanitaria nessuno ci apre il pronto soccorso, nessuno ci porta a un centro Covid, nessuno interessato. La storia gli ha dato torto. La storia gli ha dato torto e noi siamo qui però a doverci... A pagarne le conseguenze. A pagarne le conseguenze e a dover andare fuori per curarci. Chi ha la possibilità di farlo? Chi non ha la possibilità di farlo muore e si ammala come succede nel terzo mondo. Ed è veramente assurda questa cosa. Quindi anche se c'è qualcuno all'interno dell'ASP fra i dirigenti, nella dirigenza, che volesse prendere in considerazione l'ipotesi di fare un'azione forte, immediata, eccezionale, chi può farlo? Perché i commissari sono fatti apposta. Devono avere i poteri straordinari proprio per compiere delle azioni straordinarie. che si rendessero conto di un fatto che qui c'è una struttura che con pochi soldi può essere rimessa su e invece non lo fanno prendendo una serie di scuse e queste sono soltanto scuse nelle quali noi non crediamo più e basta. È assurdo, non si può aspettare da due anni. Se vi ricordate siamo partiti in novembre del 2021, ogni volta che ci incontriamo ci stanno partendo i lavori, passano sei mesi, ci incontriamo di nuovo, stanno ripartendo i lavori e stiamo andando avanti così, in modo incomprensibile. I soldi ci sono, ci sono 9 milioni e 760, il vando che ha indetto la regione ha previsto 7 milioni e 200 mila Euro, quindi i fondi ci sono per iniziare a fare la casa della Sula. E poi chiaramente ormai non è una situazione solo siderma, c'è il problema dei lobi, c'è il problema delle case di Caolonia, c'è il problema delle case di comunità, c'è il problema dell'ospedale che deve di Gerace, la locale è abbandonata, però noi vogliamo che veramente i cittadini si mobilitino, iniziamo una protesta lunga, questa è la prima iniziativa, è organizzativa, ma abbiamo intenzione di fare proposte che elencheremo durante la manifestazione in cui mobilitare tutta la popolazione, non è un problema di alcuni cittadini, è un problema di tutta la Calabria. Buonasera, grazie per essere qua, noi ce l'avamo visti il 3 marzo, sono passati 4 mesi per sapere se i soldi per tutto c'erano o non c'erano, noi qua diciamo finalmente cambiamo registro, spero che sia la volta buona, perché questo finalmente lo diciamo da molti anni, stiamo parlando di un finanziamento che risale al 2013 operativo, ma dal 2009 ipotizzato, stiamo parlando di una cosa che dovrebbe comportare un po' di vergogna per noi cittadini calabresi, per quelli che hanno avuto responsabilità in questi anni, cioè in questi anni noi abbiamo posto un problema che era quello di un diritto a curarsi, il diritto alla salute, con grandi anche sacrifici, da parte di tanti, nelle piazze, quello che non capivamo era perché c'è con delle strutture, perché non c'è solo il problema siderno, ma questa di siderno abbiamo una struttura enorme, abbandonata, e poi negli anni abbiamo incontrato Lengo, finalmente Gilaro, vieni qua, partite immediatamente, entro due mesi, voglio, e passa questo, poi passano mesi, la commissione, la prefettizia, che non firmava delle carte, arriva a scattivi, firme immediatamente, un anno per andare a fare la gara per la selezione della società che deve progettare, un altro anno per avere un progetto, per poi scoprire che in questi anni quei 9 milioni ora sono sufficienti solo per una parte, per cui noi oggi diciamo finalmente, se prendiamo una decisione, finalmente, e allora su quelle due ipotesi io credo che qualunque, che sia l'una o l'altra, purché si parta, subito. Io vorrei porre una nota quasi di speranza, perché noi non ricominciamo da 0 sotto 0, ma mutuando anche Massimo Troisi, forse da 3 possiamo ricominciare, perché in effetti nel corpo A già insiste un'attività poliambulatoriale che è abbastanza attiva, ci sono una serie di criticità estremamente gravi che vanno sistemate, che possono essere sistemate in tempi brevi, c'è il corpo B, quello diciamo sul retro, che è abbastanza spoglio e diciamo svuotato, che non sputava il centro vaccinale, che è stato chiuso e questo può essere un modo di iniziare il discorso, perché nei ragionamenti che abbiamo sempre fatto con il Comitato della Salute, un punto fermo è stato si fanno i lavori di ristrutturazione, non si trasferiscono gli ambulatori ai servizi che bene o male già insistono. E quindi sapere che si parte comunque da una base può dare qualche motivo di incoraggiamento, però alcune criticità danno assolutamente dette e sono sicura che con lo spirito di assoluta propositività che noi abbiamo possono essere quasi immediatamente risolte. è evidente ed è chiaro che questa casa di comunità non è di Siderno ma è della Locrida e quindi è importante che ogni cittadino della Locrida sappia riconoscersi in quella che è la continuità assistenziale, cosiddetta integrità ospedale territorio che è rappresentata da questa casa di comunità. Sì, sì, no, no. No, no, basta questa è stata a distanza. No, 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 basta questa è stata a distanza.